Buonasera, siamo in collegamento con Jacopo Magnaci, responsabile di Cantina dell'azienda Tenute di Fessina, che ci riceve dallo splendido vigneto del Musmeci. Ciao Jacopo! Buonasera a tutti, grazie. Bene, raccontaci in breve la storia di come nasce appunto Tenute di Fessina, un po' dall'idea, dall'inizio dell'idea e come si è evoluta nel tempo. Allora, la storia comincia con una produttrice di vino toscana, Silvia Maestrelli, che tra l'altro nasce e cresce in Villa Petrolo, in Ceretto Guiri, con l'azienda di famiglia. Lei poi si appassionò di Etna durante una degustazione alla cieca, paradossalmente in un luogo lontanissimo rispetto all'Etna, anzi proprio qui, che è Barolo, casa di Clerico. Ci fu una degustazione cieca di Baroli e Nerelli Mascati, parlo dei primi anni 2000. E lei sostanzialmente si innamorò di questo varietale, ne fu talmente incuriosita, che decise di, in un primo step, visitare il versante nord, per l'appunto con, tra l'altro, un pioniere qui, che è Stalbufoti, e visitando appunto questo versante, perché ai tempi l'est Milo era, diciamo, nei primi anni 2000, agli ori, non storicamente, ma sotto il profilo commerciale, stesso discorsi sud-ovest, quindi cominciò per l'appunto dal versante nord, dove già esiste Grazia e altri, tra l'altro. E tra una ricerca e l'altra si soffermò su questo vigneto qui, dove sono esattamente adesso, di cui si infatuò anche, che era di proprietà del signor appunto Ignazio Musmeci, perché il nostro curo di cantina è una dedica, una persona realmente esistita. L'idea di Silvia era un po' quella di produrre dei vini dall'anima femmina, elegante, molto verticali, con queste acidità abbastanza prorompenti, quindi si innamorò di Rovitello e di questa zona qui, appunto per la sua giacitura. Io in questo momento mi trovo nella vigna del Musmeci, che è la parte più bassa di tutto l'appezzamento, che oggi è 7 ettari, però parliamo di Contrada Moscamento, che è esattamente questa zona qui, che è una sorta di conca, perché noi siamo chiusi, protetti tra due colate laviche, una è famosissima, 1911, che è poi quella che ha creato la bocca nord-est, e 1809, che invece è sul lato, alla mia sinistra in questo momento, che letteralmente cingoni il vigneto da tutte e due le parti, e al centro c'è una sorta di residuo, di giacitura alluvionale, piroclastica, che è colata appunto durante il 1911, quindi il terreno, in parole povere, è composto per lo più da pomici e cipri. Abbiamo una giacitura sabbiosissima, drenante, quindi i vini di tenuta di Fessi e i vini di Silvia non hanno di base un grandissimo muscolo, si basano molto di più su delle note etere, su delle note eleganti. Lei era il vino che voleva fare, aveva questo concept, quindi ha innanzitutto acquistato questo vigneto da 12 proprietari diversi, quindi ti lascio immaginare la fatica. Successivamente poi nel 2009 è arrivata Biancavilla con il Puddara e nel 2012 nel comune di Milo invece Erse Bianco e Musmeci Bianco. Questi non sono vigneti di proprietà, sono tratti di conferimento decennale con piccoli agricoltori locali, che tra l'altro ringrazio. Sì, e che vengono citati anche in bottiglia. Insomma no, retro il Musmeci Bianco. Grazie Jacopo. Senti un po' appunto, tu ci stai descrivendo la zona in cui vi trovate, dal punto di vista agronomico. Cosa ci puoi dire sulla cura della vigna e com'è cambiata in questi anni la cura del vigneto? Se avete attuato dei cambiamenti, anche degli approcci con consulenti esterni? Allora, sostanzialmente l'idea di base e di fondo è sempre stata quella di avere grande coscienza, nel senso che poi è un vigneto che di per sé logisticamente ti porta a dover lavorare in un determinato modo. C'è quasi una forzatura in bello, perché come ti raccontavo prima, 12 erano i proprietari, noi abbiamo tutto ad alberello e tutto con una distanza tra i sesti che va dai 60 ai 120 centimetri. Quindi la meccanizzazione è assolutamente esclusa. Come lo sono i concetti di trattamento in vigna canonici, convenzionali. Silvia ha sempre voluto lavorare solo con zolfo e rame, non ci sono mai stati anticrittogramici, prodotti di sintesi o altro. Adesso, negli ultimi anni, parlo di tre anni fa, questo adesso, il 2021 sarà il quarto anno, siamo in conversione biologica con la comunità europea, quindi lo vedremo anche sull'etichetta. Però, ripeto, è semplicemente un surplus sia per i consumatori, ma anche per noi, ma anche per il mercato commerciale in generale. Il vigneto è sempre stato lavorato in biologico con zolfo e rame. Come ti dicevo prima, le giaciture sono molto, molto sabbiose, quindi non abbiamo grandi problemi. La peronospora molto raramente l'ho vista in questa vigna e dove io lavoro dal 2015, quindi sono già cinque anni. Ogni tanto abbiamo qualche attacchio idio sul nerello cappuccio che l'ansicrono dell'Etna potranno sicuramente confermare. Per il resto è un vigneto molto, molto sano. Riguardo alle pratiche, io sono felicissimo di lavorare ad oggi già dall'anno scorso con Benedetto Alessandro. il nostro enologo ed agronomo in vigne, che ha sempre avuto una parte molto legata alla natura. Sono davvero felice, a parte l'amicizia che è anche un grande professionista e secondo me sposa perfettamente il conto e l'idea che aveva Silvia di lavorare questo vigneto nel massimo rispetto, ma anche in cantina poi l'incidenza alla mano umana è un po'. Sì, perché si sono susseguiti i vari enologi, ricordo, no? Ci sono stati vari, diciamo... Tre nella storia di Fessi. Abbiamo avuto Federico Kutlaz fino al 2014, poi la parentesi Gian Domenico Negro come consulente, lui sempre e adesso Benedetto Alessandro, quindi tre, sì. Sì, tutti tocchi importanti, diciamo. Passaggi importanti. In certo calibro, sì, sì. Quindi, diciamo, già tu in parte hai risposto alla domanda che ti sto facendo adesso. Cosa... come definireste il vostro stile di vinificazione? E cosa ricercate nei vini di Fessina? Allora, secondo me la cosa bella in principio è che Silvia ha deciso di investire sui versanti storici dei varietali di riferimento, perché noi facciamo Nerello Magalese e Nerello Cappuccio a nord-est, anche una piccolissima parcella di Nerello Cappuccio a sud-ovest, è caricante per lo più ad est e sud-ovest e secondo me segue un po' l'andamento climatico dei versanti e ti aiuta poi sotto il profilo didattico ad avere dei vini che rispecchino quella che è la zona di riferimento. Sicuramente a nord, come ho già detto all'inizio, l'idea è quella di fare dei vini che abbiano non muscolo, non siano troppo concentrati, non abbiano magari tannini eccessivi, perché è la zona stessa che naturalmente lo rende impossibile, perché, ripeto come prima, siamo in una tendenza che è per lo più fredda e rigida, quindi abbiamo vini molto verticali, molto taglienti, la generalità, la sapidità, a volte anche austeri, dipende dalle annate. Io la cosa bellissima che ho iniziato a riscontrare dopo questi anni e che Silvia ovviamente sa molto meglio di me è in sostanza definibile come lo dico in lingua inglese, consciousness, che prendi di anno in anno. Adesso stiamo iniziando a capire delle cose, ad esempio il serosso contrada moscamento che tu hai degustato nel 1901. Sono progetti che sono stati fuori dopo magari 10-11 anni di comprensione di un vigneto, che poi pratica, sono niente, perché per capire veramente un vigneto forse ci vogliono 100, 200, o 300 anni, ce lo insegnano i frantesi e anche altri produttori qui in Italia. Però è bello riuscire ad essere testimoni di come una vigna si esprima in 4, 5, 6 annate e poi venire fuori dove ti rendi conto che c'è quella parcella specifica che poi è anche l'Etna, perché sai in tante zone del mondo se ti sposti 5 km magari ti cambia un mondo o anche di 200 metri, 100 metri in segno. Quindi lo stile è qui. Poi a Milo, a me piace la differenza Milo-Biancavilla perché facciamo caricante sia a Milo sia a Biancavilla è che Milo ha sempre quelle tendenze piovose, umide, cioè la zona più di Sicilia praticamente nella 2018, non cito la 19 che è stata un'annata abbastanza biatrica, ma nella 18 in un mese piove quanto praticamente piove qui a Rovitana nel comune di Milo. Mi ricordo ancora una foto che mi inviò Antenanti di un chicco di grandine grosso praticamente quanto una palla da tennis nel comune di Rinazzo. Milo per me è una zona incredibile perché i caricanti geologicamente vicini è una zona molto giovane perché la Valle del Bove e gli ultimi vulcanici dell'Etna sono tutti su Milo praticamente. Basta guardare una geologica giornata e vedere quanto i suoli siano giovani e quanto in costante cambiamento sia tutto quel versante. però la cosa assurda è che tu stai facendo un caricante a cento metri dai settecento ai novecento le basi sono quelle di un vino di montagna erbacei citrici sapidi però la cosa incredibile in certe zone metti caselle o ad esempio anche Praino sei praticamente a novecento metri o Rinazzo sei proprio di fronte a cose incredibili portano con sé un po' di memoria iodata hanno tutte le note di macchia mediterranea saline che richiamano nel mare si trova solo a Milo mentre Biancaville i nostri vini di Milo secondo me hanno un'essenza più didattica puntano a questa linearità mentre il Puddara che per esempio è forse il progetto madre di Silvia a Biancaville è una sua interpretazione di quello che è il caricante storico sull'Etna perché sud-ovest punta più verso il centro della Sicilia è più protetto ci sono più escursioni termiche i suoli sono geologicamente più antichi quindi la cosa di tirare fuori due caricanti completamente diversi è un po' il progetto di Silvia che ruota sui bianchi su questi due versanti ripeto poi il Puddara ovviamente fa legno c'è botte di rovere francese da 35 tolitri sin dalla nascita quindi ha tutta un'altra essenza tutta un'altra caratteristica rispetto a Musmeci Bianco e Terse Bianco che fanno per lo più acciaio però l'idea è quella di dare di aggiungere corpo struttura anima alla delicatezza di Biancilla ma anche un pochino di riprendere la tradizione etnea perché non ci dimentichiamo che quando il caricante è selezionato a Via Grande centinaia di anni fa lo si faceva fermentare in botte di castagno stava sulle fecce 11-12 mesi quindi è un po' l'idea di riprendere anche le tradizioni quindi tanti vini tutti diversi bene Jacopo ci hai dato veramente una panoramica di quello che è il territorio di quella che è la vostra la vostra idea aziendale mi parlavi appunto di questo nuovo vino che noi abbiamo assaggiato quest'anno avete altri progetti in futuro avete qualche altra idea qualche qualcosa nel cassetto al momento guarda siamo appena usciti con la nuova annata con Trada Casella e con Erse Rosso con Trada Moscamento a 1911 che sono praticamente non dico affinamento perché sono già sul mercato commerciale però hanno terminato adesso l'anno di bottiglie che di solito facciamo un po' per tutti i nostri vini in affinamento qui in azienda non ti nego chiedendo con Silvia si parla un po' di questo un po' di quello sarebbe affascinante sicuramente fare una bolla un giorno però in questo sostanzi di progetti cioè bisogna più che altro consolidare sicuramente questo nuovo Erse Rosso sul piano commerciale presentarlo nella maniera corretta e via dicendo e ovviamente anche il Musmeci Bianco con Trada Casella perché noi eravamo già in produzione con il Musmeci Bianco senza la menzione della Contrada adesso praticamente da due anni perché noi di solito saltiamo nelle annate belle abbiamo prodotto la 15 poi abbiamo prodotto la 17 probabilmente faremo la 19 salteremo la 18 che non è affatto stata semplice e quindi ci stiamo concentrando un po' su questi due nuovi progetti che tra l'altro sono microvinificazioni perché di Casella facciamo mille bottiglie l'anno e di Contrada Mosca parliamo di meno di un ettaro nel Contrada Mosca e nulla una raccolta manuale per il Casella in ogni caso sempre a piccoli passi guardando un po' l'esperienza acquisita in questi anni perché questa è un po' anche la vostra filosofia sì bisogna ragionare bene su questi progetti cioè non essere troppo irruenti ripeto uscire vuol dire prima di tutto comprendere un vigneto quindi sicuramente quella di Erse Rosso 1911 è stata una grande intuizione di Silvia vedremo negli anni tutti tutti i segreti non li posso dire adesso certo chiaro bene Jacopo ti ringrazio moltissimo vi faccio un grande in bocca al lupo e speriamo di rivederci presto in vigna come grazie mille a voi di poter degustare un calice insieme infatti va bene ciao un saluto ciao grazie 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 a tutti